La necessità era di rassicurare chi ha già subito un grave danno e ha perso casa. Per gli sfollati a causa del terremoto arriva una buona notizia. Saranno ospitati negli alberghi della costa a tempo indeterminato finché non si avranno strutture alternative e adeguate. E' l'impegno di Regione, Protezione Civile e Associazioni degli Albergatori che hanno sottoscritto un accordo. C'è stata una grandissima generosità e solidarietà da parte degli albergatori e delle associazioni di categoria sia nell'immediato nel mettere a disposizione tutti gli alloggi sia nella fase di regolamentazione di questa permanenza che è stata gestita direttamente con la Protezione Civile. Hanno trovato un accordo che tende chiaramente a salvaguardare la presenza degli ospiti evidentemente nelle strutture alberghiere della costa ma anche la qualità del servizio e la qualità delle prestazioni. Ci sarà un'apposita commissione di vigilanza. Ma al tempo stesso l'assessore pensa alle tante disdette che ci sono state per le prenotazioni negli alberghi. Sarebbe un secondo danno per l'Abruzzo, dice, e promuove così di ridare alla Regione l'immagine di meta turistica che merita. Abbiamo posto già al Governo nazionale, all'attenzione del Governo nazionale, la necessità che l'immagine turistica dell'Abruzzo sia oggetto di una grande attività promozionale che vada a lenire in qualche maniera gli effetti di questo dramma catastrofico che ci è capitato e soprattutto che vada a dare ampie garanzie ai turisti della possibilità di fare turismo e di soggiornare in Abruzzo.